hanno portato i giovani platone in repubblica libro ottavo dice hanno portato i giovani a non cercare altro che il lusso e l'ozio sia fisico sia morale gli hanno resi molli e pigri incapaci di resistere ai dolori e ai piaceri commento per i maestri immateriali nessuno porta i giovani ad essere incapaci di ma sono certi giovani ad essere incapaci di